Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Eternal Se ancora non l'avete mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi mai nessunissimo video Oltretutto oggi al 19 saremo in live come sempre, link in descrizione Mi vedete più brutto del solito, ma giuro che piuomen tutto normale Infatti ho semplicemente gli occhialini Andavo sempre a giro ragazzi con il pet della Night Vision, si ok bellini pet e tutto Però sinceramente se posso mettermi gli occhialini che appunto vanno a utilizzare lo spazio qui a destra Quindi effettivamente non mi occupano pezzi dell'armatura, tanto meglio Sono occhialini a visione notturna, come si può immaginare, mi fanno vedere al buio Devo dire che funzionano molto bene, li ho provati, si vede tantissimo giallo al buio Però forse perché erano di quelle notti ultra ultra buie, comunque funzionano Cioè si riesce a vedere quindi buono, ci dà Night Vision Ma infatti cioè si vede qua proprio, effetto Night Vision effettivamente Senza occupare nemmeno uno slot, ottima cosa Detto questo, nell'ultimo episodio abbiamo fatto la staffa Se ve lo siete perso andatevela a vedere, ma abbiamo anche aggiornato il pacchetto Questa cosa qui diciamo che ha creato un pochettino una situazione bruttarella Nel senso, la staffa è una figata e va fatta e in futuro proveremo a fare la mega farm Però abbiamo trascurato un pochettino l'aggiornamento Ve l'ho giusto fatto un po' annusare mettiamola così Ed è assolutamente sbagliato Perché questo aggiornamento qui è assolutamente degno di nota E andremo subitissimo in un punto molto molto lontano Che devo farvi dire alcune cose Come avete visto questo punto qui l'ho salvato con Altare Ho messo una Waston perché semplicemente siamo abbastanza lontani Da avere effettivamente tutta una zona nuova E nulla, l'ho salvato perché c'è questo coso qui Della Crimson Warfare Che non conosco la mod sinceramente Ma ho detto, beh, non l'ho mai visto prima È una struttura nuova È sicuramente una struttura da sbloccare Insomma, non è una di quelle cose Dungeon, lo esploro e ho fatto Ciao, me ne posso andare Quindi ho detto, potrebbe tornare utile in futuro E poi comunque è un punto di nuovo inizio Di un nuovo mondo, di una nuova generazione E tutto Ragazzi, ci sono tantissime cose veramente interessanti Intanto io sono già andato verso Nord E poi a sinistra Ora andremo totalmente verso West Voglio dare un piccolo spoilerino Della cosa che effettivamente si è vista in live Ci sono molte cose nuove Anche nella zona dei vampiri C'è un dungeon totalmente dedicato ai baroni Ragazzi, li abbiamo già affrontato Se ne trovo uno comunque Ve lo vado subito ad affrontare Perché è veramente una figata E poi comunque ci hanno così tanti oggetti buoni Che io veramente stento a crederci Stento a crederci E' spettacolare questo aggiornamento Non so se faremo due episodi Uno sulla terraferma E uno nel mare Perché veramente anche nel mare ci sono un botto di cose Però è molto molto interessante Questa corrabba qui dovrebbe essere dell'Astral E... Boh, questo sembra molto un portale In verità queste robe qui già c'erano Forse ecco, non in particolare questo C'è una struttura molto simile Che era apparsa Non in questo aggiornamento Ma in quello prima E noi non l'abbiamo ancora esplorata Perché appunto È una mod magica Della magia E noi diciamo Per ora quella magia Non c'abbiamo nulla a che fare Questa casa non l'ho mai vista prima Devo stare attento alla lava Eh, ah ma c'è un barbaro Ah io mi fa male È pieno di barbari Però abbiamo un problema con il mondo Suppongo Cioè siamo tornati ai livelli della luna Perché se lo fosse perso Laggava come lo schifo Semplicemente Cioè il mondo è strarrallentato Infatti me l'ha droppato ora Allora i colpi gli arriveranno in ritardo Io li faccio comunque fuori Le ceste le apre perfettamente Ora che sono crepati tutti Quindi le cose sono due effettivamente Vediamo anche se il blocco lo rompe bene Sì, vabbè Diciamo ha esitato un po' Però non sta assolutamente laggando Va perfetto Cioè sì, ok Ci mette quei qualche millisecondi in più No, va benissimo Le cose sono due O avevo la schermata qua di lato aperta E noi piaceva quella schermata Perché magari era molto molto complicata E faceva laggare Era tutta quella delle robe nuove Oppure i dungeon nuovi che hanno messo Tendono a dare problemi Cioè non i dungeon ovviamente Gli omini Insomma la battaglia che si crea Quando mi avvicino qui E loro spawnano Però seriamente Non posso fare questo test qui Perché quella pagina di prima Veramente è una mod bellissima Tra l'altro Che ha tantissime cose In ultra Mega iper definizione E ottenerle così sulla destra Comunque Non è roba da poco E comunque è una texture caricata C'è poco da dire E in tutto questo Gli occhialini devo dire Che stanno facendo Il loro degno lavoro Non si vede che notte Me li sono levati E ho ancora l'effetto Soltanto per quello vedo Ok E infatti senza Fa veramente schifo Ah tra l'altro devo anche dirvi una cosa Praticamente ho aperto Un pochettino di casse In live Cioè come vedete Ho rischettato tutte le missioni Ho trovato sostanzialmente schifezze Nelle chest Però ho voluto aprire Un pochettino Di black market Semplicemente Nulla di particolare Che prima facevano schifo E fanno ancora schifo Perché costano molto molto meno Delle extraterrestrial E ragazzi Ho trovato Questa qua Io pensavo Che fosse un bug Il fatto che mi chiedesse La coroncina Pensavo volesse infatti L'effetto L'effetto ogni volta che lo prendevo Non me lo contava mai E invece mi ha dato proprio La corona Che è quella che ci dava Il tipo rosso Il capo Del baraco Cliccando col destro Ho ricevuto La benedizione Questa qui Del sole E praticamente Posso utilizzare I suoi effetti Che sono questi qua Dove lancio Il mio coso laser E poi così Di far cadere i fulmini E la cosa bella Cos'è Che io intanto Vabbè ad esempio Con il raggio Non posso beccarmi da solo Con il fulmine Tecnicamente posso Ma Vediamo se riesco a farvi vedere Non mi fa danno Perché ovviamente È il mio colpo La cosa bella È che dall'ultimo aggiornamento Non questo Ma quello ancora prima L'hanno potenziato un casino E quindi Guardate quanto danno fa Abbiamo testato Con i boss delle torri E riesce A ucciderli Completamente Anche se è a filo Il boss della torre Però ha 250 di vita Quindi beh Potete ben capire Che io Questi cosechettini qui Li posso far tutti quanti fuori Ora Vediamo se lagga No ragazzi Non lagga Cioè veramente Era la pagina di lato Oh mio dio Questo è molto molto triste Comunque guardate un pochettino Cioè Senza armi Li ho completamente Spazzati via Senza armi Ehm Ho fatto una missione Va bene Ah no È un achievement Quindi non ci interessa per di tanto Killà un mostro Di tutti i mostri cattivi Va bene Nulla di che Cioè tipo io ora sono qua dentro Ne sono spawnati tantissimi Cioè raga Ma questa Questa è perché È un'arma OP Questa è perché È un'arma OP Che fa veramente Tantissimo danno Cioè Contro le orde È tipo tutto È veramente tutto Io ora mi metto qua Nell'angolino No 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 Devo avere la mano libera Devo avere la mano libera E questi Ok è vero Posso volare Me la scordo Va bene Guardate che cosa spettacolare Facciamoli fuori tutti Non so se le sto facendo fuori Anche chi non dovrei Cioè sinceramente Poco importa Sono tutti nemici Bene o male E così stiamo anche facendo scorta Di tutti questi soldini Che io sinceramente Non so nemmeno Come potrei andare a spendere In futuro Giuro non ne ho la minima idea E questo non lo posso Ah già Se c'ho il piccone Nella metà sbagliata No non è vero Sono in fast E non lo scava Ok È reale Cioè nel senso Non va veloce Ma no ma infatti Qua è così veloce Che l'ha pure ricostruito Cosa Ma perché Perché fa così Ma è oro Sì è oro Bah che cosa lenta E tu Sei una cittadina normale Ti risparmio quindi Molto belli questi quanti L'altro Pensavo veramente Anche quelli L'altro villaggio Di prenderli E portarli a casa Non sono affatto male Ma tutta sta roba qui Per A parte che sento uno Che tira ancora le frecce Non so dove sia Ah Sono sparsi ovunque Vabbè Non è un problema Ah le cese sono sopra Le ho viste Le ho viste Ma dentro non c'era un'entrata Vabbè Facciamo finta Che l'entrata in verità C'era Ed era questa Molto molto belli Questi blocchi bug E tu Come hai esatto A resistere al mio primo colpo Ah E invece c'era Wooden slab Eh ma è sempre la stessa storia Le wooden slab ragazzi Sono la cosa più buggata al mondo E non posso ancora aprirla La chest Ci sono ancora Dei nemici Ebbè E' vero Eccoli qua Fine Altri No ok In teoria ce l'avevo fatta No Eccone uno Ok Devo dire Questi dungeon A parte i lag Sono una figata Ma ne manca ancora uno Ma dov'è Non vuoi dire che Signora Mi dispiace Mi dispiace Non è vero Non me ne frega niente Ma questo è uscito dal portale Via proprio Via 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 E nulla Ne sto cercando in verità un altro Perché mi dice ancora Che Che non posso Ah io Oh ma Cavolo mi ci dovevo avvicinare Ma ne manca ancora uno Ecco ma se le rompessi Il drop esce per forza Dai Ah ma allora Stonks Ma che mi frega Ma se posso fare così Anche se sta uscendo sempre la stessa cosa Quindi o Viene elevata la randomicità delle cose Oppure questo qui era tipo Stile tesoro Con smeraldi diamanti dentro Beh Nel dubbio non li butto Non sono affatto male Però sinceramente Di coin comincio a prendere Soltanto quelli lì d'oro E di Di coso qua Di silver Perché Poi se no ne ho troppi Quelli di copper Secondo me fanno anche un po' schifo Va bene Continuiamo Qua abbiamo un'altra mini casetta Ah ma È loro Vabbè L'ho fatto tanto per Ma in verità Penso siano schifezze appunto Frecce Ma non guardo nemmeno So ce n'è un'altra È scam questa proprio La cosa bella effettivamente Di questo qua Che abbiamo trovato noi Ovvero che ci fa sparare i raggi Ragazzi È che effettivamente Non dobbiamo più Avere le frecce dietro E l'arco Quindi anche dovessimo Un giorno tornare Ad esempio che ne so Nell'erebus Dove ci sono quei mob Che sì sono forti Non fortissimi Ma nemmeno non tutti O perlomeno anche i topini Mettete che c'è tanti topini sotto Invece che fai così Ragazzi voi non avete idea Di quanto veramente Io ci abbia messo A uccidere i topini Per entrare nella piramide Continuavo a mancarli Vi giuro Continuavo a mancarli E invece con il raggio così Che è un raggio comunque Continuato Si fanno fuori tutti tranquillamente Non è assolutamente un problema Oppure questi qui Che su come mi avvicino Si usano il loro scudo Del cavolo Oh Così E lo scudo? Dove ce l'avete lo scudo ora? È bellissimo Tra l'altro penso che Nonostante usino lo scudo Con il raggio Non lo possono parare Cioè Non penso sia parabile Mettiamola così Tipo vediamo Ora sta usando lo scudo No No Rimettitelo Eh vabbè Sì beh Rimane il discorso che Comunque Mi ci devo impegnare Per non killarli Ecco Allora qua abbiamo una casetta Cibo Questo lo piglio Perché il cibo L'ho appena finito Cioè Proprio in questo momento Lo sto finendo Olè Da quest'altra parte Il nulla Ma questo era un villaggio Eh forse Forse poteva anche non attaccarli Mettiamola così Era un villaggio pacifico Stavano soltanto coltivando del cibo Per gli altri villaggi Beh Penso che non lo faranno più ora E riguardo a questo dungeon Mi viene in mente una cosa Ci hanno lasciato Il nostro bellissimo pet Per trapassare i muri Ma hanno elevato i Chorus I Chorus Quelli che ci permettevano Di andare in game mode Oltre li hanno completamente elevati E non ci sono più Eh sì Brutta storia Brutta storia Però la supereremo Abbiamo un Mega Drago Sempre loro Allora Cerchiamo di accumularli tutti Sono tantissimi ragazzi Stavolta Sono veramente tantissimi Se non mi esplode ora il computer Non esplode più Ok Stanno continuando anche a spawnare dentro Tra l'altro Li abbiamo tutti qua Possiamo killarli una volta sola? Vediamo Oh no vabbè È vero perché il raggio tra l'altro Questa è un'altra cosa potentissima Oh ne era avanzato uno Il raggio tra l'altro Trapassa Quindi se ci sono due nemici Uno dietro l'altro Io non è che colpisco uno E quando Crepa colpisce quello di aero No 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 Li colpisco tutti e due insieme E questa è un'altra cosa Veramente bellissima Di quest'arma qui Che a questo punto Non vi nego Che potrebbe diventare La mia arma preferita È vero Sì c'è ancora il coso lì Della terra Al talitmano della terra Che prende Alza la terra E la scaraventa Adesso al nemico facendo Ottocento Settecento Seicento Le danno Non mi ricordo nemmeno Se è fisso oppure no Però Oh Aiui 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 Però quella cosa lì ragazzi È veramente buonissima Oh mio dio C'è un drago Nel tempio del drago L'hanno implementate così Queste cose Ad esempio Il draghetto che sta qui È cavolo Però No 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 Ora lancia il fuoco Questo magari il fuoco no Magari lancia il ghiaccio Vabbè cerchiamo comunque Di colpirlo Io non so Quanta vita possa avere Ma bisogna stare molto molto attenti Perché vi ricordo Che questi qui l'hanno potenziati Nella scorsa versione Questa qui Non so se l'hanno depotenziato O ripotenziati Ma comunque stiamo attenti E di piccola taglia Non è molto grosso Quindi ce la dovremmo fare Ma non so Oh oh Gli abbiamo levato metà vita Oh mi ha morso Mi ha morso Mi ha morso Mi ha morso Invincibilità Invincibilità Ok Sì È andata così Proprio così Ho dovuto utilizzare l'invincibilità Ragazzi Qui sarebbe messa un pochettino male Andiamoci quindi Di spada Per gli ultimi 200 100 10 di vita Ok Chillato Beh sì Allora Diciamo che Se un mob come questo Che ha 2000 di vita Perché aveva 1700 Questo qua Sì è un po' Meh Provare a uccidere con un'arma Di questo tipo qui Perché comunque Se fa 250 Ha raggio Il raggio dura 7 secondi Sì ce la faccio Tra l'altro Non è che arriva lontanissima Perché vedete Cioè Ora Non vi saprei dire Ma più o meno Se lo stavo sparando da qui Arriva più o meno In questo punto Quindi capite che sì Attacco da lontano Ma è comunque Lontano ravvicinato Molto interessante come sono state implementate queste cose qui insieme Cioè c'era un drago qui E ok Questa sembrava una tomba Il drago proteggeva un tesoro Oh mio dio C'è una spada sacra E tantissimo oro qua dentro Oh ma che era Ok Roba in diamante Ok Non dovrei essere così Ah ma questi sono i coin per terra Posso mettere i coin per terra Va bene È una spada ragazzi Facciamo tipo Excalibur Signori sono pronto Vediamo se sono degno Eh non volevo lanciare il razzo Nemmeno ora E che cavolo E come la prendo Ma Devo andarci di piccone Oh sì Devo andarci di piccone Beh Forse non troppo degno Ma comunque ci abbiamo fatta Questa cosa qui è un Semplicemente un altarino Un piedistallo Per metterci sopra Quello che vogliamo Forse altre cose E poi questa spada qui ragazzi Allora se io la spada L'ho ottenuta effettivamente Dopo aver sconfitto un drago Si pensa che Sia potente Incrementa la strength Quando è Incantata Hmm Cioè nel senso Più incantamenti gli metto Più fa danno Molto molto interessante È sicuramente una spada Degna di nod Che attualmente fa schifo Perché 4 di danno Non ci siamo Però se magari potesse Realmente aumentare la strength Per ogni Incantamento Gli potrei mettere Che ne so 10 incantamenti Vorrebbe dire che ha 10 di strength Suppongo Wow È più o meno come la spada Quella di Anubis Che si potenziava ogni volta In base alle kill Che però purtroppo Nel pacchetto è stata limitata E quindi non poteva andare A più di Non mi ricordo quanto era il danno 9 10 11 Che comunque rispetto alla nostra Fa schifo La nostra è buona come spada Ho già detto che l'avrei cambiata Ma non per questa Tutto sommato Se è buona Perché no E se non è buona Potrebbe tranquillamente Finire il nostro museo Ci sta proprio benissimo Detto questo Con questa scoperta Che nemmeno mi aspettavo Perché sì Ok c'era una tomba Pensavo di doverci scavare Insomma è una tomba Ci sarà uno scheletro Con dei tesori Ma non mi aspettavo Né il drago Né questa roba qui Quindi sono contentissimo Fatemi sapere voi Nei commenti Ragazzi Se già conoscete questa roba Se potrebbe essermi utile Oppure no Detto questo Ci si vede alle 19 E niente Ciao a tutti Ciao a tutti